Ora proviamo la X1 di Asseblad, video formato mirrorless Ragazzi questo gingio è nitissimo, non ho mai provato nulla di più nitido Ora ci hanno dato l'H6D400C, nuova ammiraglia di casa Asseblad Gli svedesi con questa mossa hanno provato un multishot a 400 megapixel su singolo scatto Scatta 4 foto da 100 megapixel e li mette insieme per avere un unico file da 400 megapixel In mano è qualcosa di mostruoso, veramente grosso Grazie a tutti